Buonasera, rispondo subito alle vostre domande. No, non è una parrucca, si sono i miei capelli, nel senso che proprio ci sono nato così, tra l'altro io nell'85, quando sono nato io, non so se vi ricordate, ma all'epoca nessuno si depilava, femmine, maschi, sopra, sotto, mia mamma, nessuno. E in sala parto io nascevo e nessuno dei presenti si era accorto che io avevo già la testa fuori. Così ho detto, mi faccio notare, ho pianto, e mi ha preso fuori, mi ha portato a dimagare, signora, se ogni riccio è un capriccio, questo ragazzino è un rompicoglioni, no? In realtà no, mai stato attaccabriche, grazie. Ve lo giuro tutto il contrario, innocuo, mai stato attaccabriche, odio la violenza, mai fatto a botte e sono riuscito a sopravvivere a librino. E dite, come hai fatto? Semplice, quando gli altri facevano a botte, io facevo l'opossum, cioè fingevo di essere morto e pregavo che il mio nemico non fosse pure necrofilo. Perché io so fingere la morte, ma non so fingere l'orgasmo. Quindi non sapevo come, però è andata bene, fortunatamente sono cresciuto. A proposito di orgasmi, l'altro giorno era a casa, stavo facendo l'amore chiuso in bagno, lo so, lo so, lo so, è un posto squallido, se fossimo stati in due, ma... E pensavo che anch'io ho avuto una fidanzata. Cazzo ridi, eh? Non è una battuta, eh? È vero. No, posso avere una fidanzata io, eh? E lei mi ha fatto capire che amare vuol dire rinunciare. Io, per stare bene con lei, ho dovuto rinunciare a vedere i film che piacciono a me. Guardavamo solo i film che piacevano a lei, che poi guardavamo. Guardavo, perché lei dopo cinque minuti era svenuta e si svegliava soltanto appena io pensavo di avvicinarmi al telecomando per cambiare canale. Eh? Che fai? Cambi? Eh sì, e tu dormivi? Ma cosa c'entra? Io il film già l'ho visto, voglio che lo guardi tu. Ecco, non a caso abbiamo visto io prima di te, Ghost, Titanic, il messaggio era chiaro? Devi morire. Quante volte l'ho pregato? Guardiamo la sposa cadavere, almeno una volta muori tu. Mai! 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 Grazie. Grazie. E quindi è una storia che è andata avanti con i suoi problemi. Una volta lei per fare la simpatica ha detto adesso ti comincerò a chiamare Cagnolino, sei il mio Cagnolino. Io non mi sentivo rispettato da uomo, la devo fare smettere. Così l'ultima volta che lei mi ha chiamato Cagnolino io le ho cacato sul divano e poi le ho mangiato un paio di scarpe, ha smesso, l'ho fatto io. Da persona matura si affrontano così le cose. Però la cosa più bella che abbiamo visto insieme è durante una cena, mangiavamo sofficini, lei mi guarda e mi dice, amore ho un ritardo. Lei da femmina era già mamma, pensava speriamo sia una femmina, io già papà speriamo sia di un altro. E perché non è facile, io infatti mentre me lo diceva io già immaginavo questa cosa io papà ma come faccio io? Un monolocale stretto a un gusto. Oggi tocca a te cambiare i pagnolini, va bene. Non ho il fascio d'olio, lo faccio sul tagliere di casa. È pulito, non lo usiamo mai. Mangiamo sempre i sofficini e li mangiamo interi, mica li taglio. Quindi messo sul tagliere, sto facendo sti pacchettini di merda, guarda quante sfumature di marrone, che colore, che talento questo ragazzo. Guarda i sofficini. E fino a lì è facile perché è come avere uno scizzo. Avete presente sti cani di piccola taglia col pelo? Quelli che tu ci infili un bastone in culo, ci puoi pulire gli angoli tipo Swiffer. Ok, fino a lì è facile, ma come la metti quando questo ragazzo sarà così grande ad avere una personalità tutta sua e fare delle domande a cui neanch'io saprei rispondere. Domande come papà, perché il mondo è così cattivo? Papà, perché le persone sono così brutte? Papà, perché mangiamo sempre i sofficini? E che gli devo dire? Dovrei essere sincero col bambino e dire papà, faccio il comico, sei figlio di uno povero? Senza soldi la vita è una merda. No, io lo posso dire, non è giusto. E quindi nutro poi altra paura non tanto dei bambini ma dei genitori di oggi. Perché ho degli amici coetanei che fanno figli e dicono tutti la stessa frase. Quando nasce smetti di vivere tu perché inizi a vivere per lui, che sembra l'inizio di un film horror. Perché dovrei volere una cosa? Poi soprattutto loro dicono tutti la stessa cosa. No perché mio figlio, ma mio figlio. Mio figlio 36 mesi, tipo un finanziamento, non ho tre anni. Mio figlio, lo sa, a 36 mesi prende il tablet, YouTube, mette la canzone e balla. Che fenomeno, ragazzo. Allora la mia domanda è, ma se tutti fate figli splendidi, fantastici e intelligentissimi, che fine hanno fatto i figli scemi? Non nascono più? Sono l'ultimo? Io credo che ogni bambino da subito debba cominciare a fare sport, perché lo sport ti insegna la sana competizione, ma non la sana competizione quella che ti dicono i genitori sei bravissimo, sei più forte. No, mio padre lo sapeva che quando ero piccolo io ero scarso e lui non mi ha mai fatto mancare la sua disapprovazione. Mai. L'ultima volta che è venuto a vedermi giocare si era vergognato così tanto che è tornato a casa con un altro bambino. E tu dici, allora, come si fa? Nel senso, è difficile costruire qualcosa con qualcuno o una persona, perché bisogna avere gli stessi obiettivi. Infatti la mia lei mi ha lasciato con questa scuola dicendo ti lascio perché al posto tuo ho trovato la persona perfetta. Ora, non è tanto la fine della relazione, ma mi ha ferito il fatto che lei dicesse la persona perfetta, perché ho cominciato a fare i paragoni. E chi è questo? Goku di Dragon Ball? Chi è? E poi se è così pieno di qualità, a te si piglia. È difficile, è difficile, però io credo di aver trovato un modo per capire. Io credo che la perfezione non esista. Esista una coppia, due persone che consce dei loro difetti, stanno ben insieme e si accettano così come sono. Due esseri perfettamente imperfetti. Ma come fare a capirlo? È semplice. Tu sei sposato, stasera, 3.35, 4.30, ti avvicini a tua moglie e la svegli. Oh! Se non ti ammazza, è già una cosa buona. E le dici, amore, secondo te, io sono perfetto? Se lei ti dice, ma certo, amore mio, avete trovato una persona giusta. Ma se quella persona è sincera, vi dirà, amore, io sono perfetto, ma anche tu che scorreggi casa a casa. Ma quando mai? Tu sei lontanissimo dalla perfezione, ma attenzione, è per i tuoi difetti che ti ho scelto. Ecco, in quel caso siete voi che avete trovato la persona perfetta. Grazie.